Le cose le capisci quando le vedi accadere nella vita degli altri. Buongiorno, buongiorno e buon caffè. Eh già, le cose si fanno fatica a capire in teoria, specialmente se riguardano i comportamenti e non le cose da sapere, perché le competenze, come si sa, sono divise in tre parti fondamentali. Ciò che devi sapere, ciò che devi saper fare, quindi le conoscenze, le capacità, quello che devi saper fare. E poi come devi saper essere, come devi comportarti, i comportamenti. E spiegare un comportamento è difficilissimo. Come dice quel famoso libro, molto intrigante fin dal titolo, non puoi spiegare ad un bambino come si faccia ad andare in bicicletta in un seminario. Devi farglielo vedere, devi stare a fianco a lui e farlo. E noi capiamo le cose quando le vediamo nella vita degli altri, quando le vediamo nella concretezza, quando le vediamo mettere in pratica, quando le vediamo costare fatica, impegno, sforzo. Allora sì che le capiamo e magari le facciamo anche nostre. Quindi vale anche al contrario. Se vuoi far capire qualcosa a qualcuno, comincia a farlo. E poi magari glielo spiegherai anche. Ma se non parti dal famoso esempio, le parole si perdono nel vento. Buongiorno, buongiorno e buon caffè.